Il 1881 è stato un anno topico per il trasporto pubblico nella nostra regione. Nascevano ed iniziavano ad operare alcune ditte assolute pioniere nel settore. Il 2 dicembre di quell'anno veniva avviato un servizio di mezzi trainati a cavallo nel capoluogo Ancona. Il 5 dicembre, a cura della ditta Crognaletti, iniziava la tratta Monte Carotto-Jesi. Alcuni giorni prima, era il 17 novembre 1881, partiva ufficialmente il servizio della ditta Bucci nella tratta Corinaldo-Senigallia. Sono passati 130 anni da quella data e di strada da allora la ditta Bucci ne ha fatta veramente tanta, e non soltanto in maniera simbolica, per sé e per il numero incalcolabile di persone che ha ospitato a bordo dei suoi mezzi. Per celebrare questa ricorrenza, davvero rara, sono poche le aziende attive da così tanto tempo in maniera continuativa, Bucci ha voluto organizzare una manifestazione ricca di momenti piacevoli ed interessanti, per tentare di tracciare nuovamente un percorso lungo 130 anni. Sono passati proprio 130 anni dal lontano 1881, in cui il nostro bisnonno ha iniziato la messaggeria a cavalli tra Corinaldo e Senigallia. L'attività con i cavalli è durata 30 anni, poi agli inizi del Novecento, precisamente dal 1911, c'è stato il decennio in cui ormai milioni di persone hanno lasciato il cavallo, il calesse, la diligenza, la messaggeria, per attrezzarsi con autobus e con automobile. Tanti dunque i momenti che hanno caratterizzato la giornata, ad iniziare dalla targa dedicata a Piero e Ubaldo Bucci, prosecutori importanti e decisivi per lo sviluppo aziendale, scoperta, a significare la continuità familiare attraverso le generazioni, dalla piccola Sara di appena 4 anni. Sono tornate in mente le cose di tanti anni fa, ma non posso che riconfermare tutte le cose che ha detto mio cugino e associarmi a lui nelle memorie delle persone che ci sono state care e che ci sono ancora care. Ma radici anche profonde non possono essere sufficienti se non si guarda attentamente al futuro. Va inquadrata in questo senso l'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico installato sullo stabilimento di Senigallia dove si è tenuta l'iniziativa. Lungimiranza dunque, ma anche attenzione e sensibilità verso quelle energie rinnovabili e pulite che a detta di molti sono indispensabili per lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Sicuramente oggi è una giornata bella, si inaugura un ulteriore momento di storia, un'altra storia che continua, che ha tanta tradizione e che sicuramente con l'inaugurazione di un nuovo impianto che efficienta ancora ulteriormente l'azienda è sicuramente una bella cosa. Sono interventi importanti, sia i privati che il pubblico si stanno impegnando parecchio sulla produzione di energie rinnovabili, specie sul nostro territorio. Sicuramente questa è l'interpretazione migliore per quanto riguarda il fotovoltaico, cioè a dire non pannelli a terra. Invece produzione di energia posta sopra edifici industriali, la collocazione è migliore, la collocazione è migliore anche dal punto di vista della qualificazione dei contenitori. Passato e futuro si sono quindi perfettamente miscelati nel corso della giornata, alla quale hanno preso parte autorità ed ospiti di rilievo, a testimoniare, qualora ce ne fosse bisogno, il legame della ditta Bucci con il suo territorio e l'importanza del servizio che quotidianamente viene offerto da questa struttura, che fa parte delle società provinciali, Atma per Ancona e Adria Bus per Pesaro, miste tra pubblico e privato e che rappresentano il modello marchigiano di esercizio del trasporto pubblico locale. Festeggiamo oggi i 130 anni dell'attività della ditta Bucci, che significa relazioni con la città di Senigallia, ma non solo, l'intero territorio dove c'è una storia dietro del trasporto, quindi anche i mezzi che troviamo qui dentro oggi ne sono un grande esempio. L'orgoglio di aver dato i Natali a questa azienda, a questa grande azienda, che è cresciuta, si è sviluppata, ha coeso il territorio, ha creato tecnologia e innovazione, ha dato posti di lavoro, un apprezzamento importante per questa famiglia, per questa azienda, con centinaia di lavoratori che portano un valore aggiunto al territorio in termini di viabilità e di benessere. Non a caso la proprietà ha voluto ringraziare tutti i suoi dipendenti, citati in un momento suggestivo, dall'attore Luca Violini, protagonista anche di alcune letture teatrali di grande effetto. Dopo gli interventi istituzionali e di saluti da parte delle autorità, è stato poi quasi naturale dar vita ad una sorta di torneo oratorio, al quale hanno portato la propria testimonianza diversi personaggi, dai colleghi di Bucci ad amici e collaboratori, che hanno animato un dibattito con interessanti spunti di riflessione, per una manifestazione perfettamente riuscita sotto ogni aspetto. Ci lascia questo messaggio, desti nello spirito, pronti ad accogliere le novità e vedere soprattutto di potenziare questo servizio pubblico che in un periodo di crisi così accentuato resta una delle modalità di spostamento. Inoltre mantiene la coesione sociale, riduce l'entità del traffico e porta beneficio all'ecosistema, perché logicamente questi autobus, specie gli Euro 5, sono a bassissima emissione di gas nocivi. La torta celebrativa ha concluso una bella giornata di festa, ma i 130 anni di attività della ditta Bucci rappresentano soltanto una tappa e non certo un traguardo per un'azienda che guarda con orgoglio il suo passato ma non dimentica di pianificare con attenzione il suo futuro.